sa dove mi porti oggi di bello a oggi oggi ti manderei a fare un viaggio non suona benissimo non suona benissimo però fare un bel viaggio sì mi piacerebbe tanto perché no oggi ma prima la sigla benvenuti a the wedding party show la vetrina sul mondo dei ricevimenti e del wedding e del wedding ovviamente oggi andiamo in giro per il mondo si viaggia a chissà chi è che ci porterà così a visitare posti meravigliosi lo dico io chi è alessia porani alessia grazie dell'invito grazie allora per te ho trovato un bel soggiorno alle maldive da un momento lontanissimo vietnam via tram che ne pensi di vietnam ho capito via tram ho capito via tram è originale ma raccontaci un po chi è cosa fa una consulente di viaggi grazie per avermi chiesto di descrivere il mio titolo è un titolo professionale nuovo in italia soprattutto in america funziona già da diverso tempo sostanzialmente è un ibrido tra un agente di viaggi e un tour operator il maggiordomo della situazione quando si tratta di organizzare inserire inserire servizi confrontare i prezzi di tutti i servizi che si trovano sul web entra in gioco la mia professionalità sono come ho detto già detto il maggiordomo dei viaggi che bello il maggiordomo è proprio una proiezione che spettacolo brava e perché ho visto io ho visto cose che voi passeggeri non potete neanche voli cancellati alle porte di orione ne capita un po' di ogni questo è importante prevenire meglio prevenire che curare eh sì esattamente ma Alessia raccontaci un po' prima ci spiegavi del tuo slogan viaggia con un vocale che cosa intendi come un vocale uno che canta mentre viaggia sì sì più o meno più o meno vero Alessia viaggia sempre e comunque hashtag viaggiare sempre grande vi spiego il mio slogan dunque ho una passione spropositata per le voci per quello che è la vocalità perché sono anche una cantante una doppiatrice il mio passatempo invece di andare in palestra mi dedico all'arte del canto e avendo questa passione spropositata per le voci ho detto ma perché non risparmiare perché i vocali di solito non piacciono tanto dipende chi li fa beh io ho proprio bisogno di sentire le voci di sentire il sottotesto di sentire le emozioni quindi quando le richieste di preventivi di desideri di viaggio arrivano con un vocale io le capisco meglio e il semplice preventivo si può fare anche così mandami un vocale io ti faccio il prezzo se ti piace prenotiamo se non ti piace sia parlato che cantato in tutte e due maniere si si è cantato pure meglio bello beh molto informale e molto veloce niente oggi non si riesce a far tacere il giorno molto spigliato va bene e ci sentiamo alla prossima puntata ciao ciao tu comunque con sta Berta potresti andare un po' non è una Berta è un cappellino froce appunto volevo dire ti potresti andare un po' a Parigi no ah che bello eh bello ti mando un vocale vocale oppure oppure visto che siamo qui possiamo anche parlare non non c'è nulla di meglio che vedersi davanti certo a una scrivania ovviamente io ricevo ricevo anche su appuntamento ad Asti, Nizza Monferrato, Acquiterme e Castiglione Tinella Castiglione Tinella io devo sapere dov'è Costi Castil... Costi... no 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 Castiglione Tinella Castiglione Tinella dove è? non potete dimenticarvi questo nome perché rappresenta la bellezza e la maestosità di un personaggio importantissimo per il risorgimento italiano che è la Contessa di Castiglione Castiglione Tinella e Castiglione Tinella e Castiglione e Castiglione Tinella e Castiglione Tinella è la porta delle Langhe subito dopo la Langhevodastigiane abbiamo Castiglione e Castiglione Tinella è la vicinity ass käse patriots di Medladi e Castiglione e Castiglione di Manätta ilblade e verlade il significativo di Livro e Castiglione eXLупii. tra le vigne, da vedere, da vedere, venitemi a trovare perché oltre ad essere consulente di viaggi per i viaggi di nozze o viaggi di qualsiasi tipo, sono anche una promotrice turistica locale, local expert, ma noi verremo sicuramente a trovarti perché ogni scusa è buona per versi un buon beach air, di moscato, quello che c'è assolutamente, ma prima hai citato i viaggi di nozze, allora visto che è un viaggio pieno di aspettative come lo organizzi e quali sono le destinazioni più gettonate, più richieste? Sì, il viaggio di nozze è un viaggio pieno di aspettative, lo ripeto perché oltre al sogno c'è anche la giusta misura tra tempo e spazio perché normalmente lui vuole andare in montagna e lei vuole andare al mare, oggi proprio, si può mettere in armonia, anche questo aspetto perché c'è più tempo, il viaggio di nozze ha più tempo a disposizione, le mette più richieste, da quest'anno? Sì, la new entry di quest'anno è la Corea del Sud, il Vietnam che torna ad essere sempre più richiesto, sempre presenti sono le Maldive, il Giappone, il Sudafrica e il mio personalissimo desiderio sarebbe quello di andare alle isole Fiji, di mandarvi alle isole Fiji. Dove c'è quel tramonto indimenticabile? Tutti i tramonti sono indimenticabili. C'è in tutto il mondo tramonto, a odorare i diversi, però spieghiamo come ruota la terra. Ma sai che vi mando proprio tutte e due a qui? Alle isole Fiji. Alle isole Fiji. Alle isole Fiji. Cosa stai facendo? Stretching? Una scema. Ti stai preparando per il viaggio di nozze? Sì, esatto, va bene, grazie. Allora la rifiudiamo qua per la seconda volta, è stato un onore, non lo vedrete più su questi schermi. Allora io, ascolta, ringrazierai intanto veramente per i consigli. Sì, Alessia, fantastica. Io ti ascolterei parlare per ora perché sembra di viaggiare, sembra di viaggiare. In montagna. Al mare. Al mare, decisamente al mare. E ascolta, quindi oltre ai ringraziamenti vorrei chiederti questa cosa, prima ci hai accennato di un bonus, allora noi vorremmo sapere di cosa si tratta. Di cosa si tratta? È per ringraziare voi, prima di tutto, per avermi dato lo spazio in wedding party show, perché mi piace il mondo del wedding, non solo i viaggi di nozze, ma lavorando nel wedding come cantante a volte, a volte mi capita di lavorare nel wedding anche come cantante, ho conosciuto fioristi, fotografi, colleghi e poi anche tecnici, per cui il mio bonus che ha un valore di 200 euro. Mazzate! Sì, sì, mi do via. Generosità, generosità come se piovesse. Questo bonus si può utilizzare contattandomi, prenotando con la mia consulenza un viaggio di nozze in tutto il mondo, non ho preferenze. Ho, come dire, un piccolo blocco sulle crociere perché non sono attualmente così green. Vero, hai ragione, hai ragione. La mia filosofia è un po' più green. Ma detto questo, prenoto anche le crociere. Come possiamo contattarti? Sì. 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 Ho un sito che sarà prossimamente online, www.alessiapviaggi.com Alessiapviaggi.com Il mio numero di cellulare sul quale potete mandarvi tutti i vocali che volete, 329-049-4380 Dopodiché fissiamo un appuntamento a distanza o in presenza per ricevere questo bonus di 200 euro da utilizzare in musica, musicisti per i riceviventi, fiori, abiti da cerimonia, complimenti di sound design e light design e poi cos'altro? Ah sì, stavo dimenticando. Nella mia Castiglione Tinella c'è un bellissimo albergo con piscina esterna nel quale io posso regalare una notte a tutti gli sposi. Sì, bellissimo. Quindi non si arriva di giorno, non si deve arrivare di sera. La notte. La notte. Per nottamento. La notte. La notte. Cosa succede? La notte vola. Vabbè, era anche legato al viaggio. Alessia, noi ti ringraziamo veramente tanto. Grazie, grazie a voi. Abbiamo sognato d'occhi aperti. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.